Sta per partire, siamo con l'assessore Francesco Ruscelli, un importante intervento sull'ITC Buonarrota, attuale sede dell'ITC in Piazza della Badia. Sì, un intervento molto atteso su un edificio storico, sito nel centro storico di Arezzo, che era atteso da tanti anni e che siamo riusciti con l'ultimo assestamento di bilancio a inserire tra gli interventi finanziati dalla provincia di Arezzo, sul quale gli uffici del servizio edilizia stanno predisponendo il progetto definitivo che contiamo di mettere in gara nei primi mesi, insomma marzo-aprile del 2014. L'intervento rappresenta il primo lotto, diciamo, di un intervento più complesso e articolato del valore di circa 3 milioni di euro, che rappresenterà una riqualificazione completa di tutto l'edificio. In questo primo lotto ci ricordiamo, insomma, anche le polemiche che erano sorte a inizio dell'anno scolastico rispetto alla mancanza delle aule, che poi, onestamente, con il rodaggio delle prime settimane, dei primi resi di scuola abbiamo verificato non essere così impegnative e problematiche, così come da alcuni erano state dipinte. Dicevo, con questo primo intervento saranno rese nuovamente agibili le sei aule collocate su due piani, in un'ala appunto della struttura, sarà realizzata la nuova copertura e reso nuovamente agibile un laboratorio. Poi, in prospettiva, chiaramente speriamo di riuscire a reperire le risorse o che qualcuno ci trovi le risorse, perché voglio ricordare che c'è una legge della 23 del 96 dello Stato che dovrebbe finanziare l'edizia scolastica, ma che dal 2004 non finanza più nessun intervento. Per cui l'intervento sulla Badia, come la maggior parte degli interventi che sono in cantiere, che sono stati appaltati e in corso, sono realizzati con risorse nostre, con risorse della provincia.